Grande Fratello VIP, nessuni nominati hanno otto concorrenti. Non c'è stato alcun concorrente eliminato nella puntata del Grande Fratello VIP andata in onda giovedì 9 febbraio. Ma a finire al televoto in vista della puntata di lunedì prossimo sono stati otto concorrenti. La puntata di questa sera ha offerto diversi spunti di discussione, la rivalità tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni a causa di Daniele Dal Moro. Il rapporto tra la venezuelana e il suo ex, la crisi di Antonella Fiordelisi che ha fatto dietro front rispetto alle accuse di bullismo e diversi altri temi. La puntata del 9 febbraio si è conclusa senza alcuna eliminazione. Il concorrente risultato essere il meno votato è stato Attilio Romita. Finito al televoto insieme ai nominati della settimana e a Nikita Pelizzon, nominata della scorsa settimana. Sono otto i concorrenti a essere finiti in nominazione. Si tratta di Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Donna Maria, Nicole, Nikita e Oriana. Gli immuni delle opinioniste sono stati Antonella Fiordelisi, salvata da Sonia Bruganelli, e Luca Onestini, salvato da Orietta Berti. La casa, invece, ha reso immuni Edoardo Tavassi, Sara Altobello, Andrea Maestrelli e Alberto De Pisis. Il primo a fare la sua nominazione palese è stato Edoardo Donna Maria che ha votato Antonino Spinalbese. Attilio Romita ha votato Edoardo Donna Maria, Giale De Dona ha votato Davide Donadei. Daniele Dal Moro ha votato Nicole Murgia, Orana Marzoli ha nominato Davide, Donadei ha votato Oriana. Nicolò Incurvai ha votato Davide, Nikita Pelizzona ha nominato Antonino, Nicole ha votato Daniele. Il primo a fare la sua nominazione segreta è stato Alberto De Pisis che ha votato Daniele. Edoardo Tavassi ha votato Davide, Luca Onestini ha votato Antonino, Sara ha nominato Nicole. Andrea ha nominato Oriana, Antonella ha votato Nicole. La puntata del 9 febbraio 2023 si è aperta sulla rivalità tra Martina e Oriana che si sono scontrate a causa di Daniele. Momento difficile per Attilio Romita, diffidato dalla famiglia Tavassi. Oriana ha raccontato il rapporto tormentato con il suo ex e Antonella Fiordelisi. Per la prima volta, ha fatto marcia indietro a proposito delle acusi di bullismo. Orice crescine pentru tine, fii egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru biboiul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți msicu care am crescut, pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Tre' să depășesc Plutonu cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonu, maxi, chespe, Chimie, rimaru, spike, puia, si, shoapo, grasul, nimeni altu, delvede, sau carpo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, vei zici că mă bat cu posul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adonim.